Secondo me è una partita interpretata bene dalla parte nostra, che meritavamo di vincerla, però purtroppo nel calcio in Serie B lo sappiamo, succedono queste cose, oggi i palli, le occasioni avute, rigori e non rigori, comunque dobbiamo prendere gli spunti giusti e spunti buoni da questa partita e cercare di uscire da questo momento che poi è più una questione di fortuna diciamolo così, però non dobbiamo pensarci troppo e sbattere la testa al muro, dobbiamo cercare di riunirci, abbiamo fatto due partite fatte bene, stare tutti uniti, lottare tutti insieme e cercare la vittoria già dalla domenica.